alla presentazione dell'anno attaccante il pomigliano calcio umberto prisco due sensazioni alla termine del ritiro qui da serino abbiamo fatto l'ottimo ritiro un gruppo affiatato si è lavorato bene con il prof e il mister abbiamo fatto delle buone cose sperando che quest'anno ci portino qualcosa di buono l'attacco vedendo la rosa del pomigliano tutti nomi competitivi ci sarà divertirsi sicuramente nomi importanti aspettando quest'anno è un anno buono a pomigliano hanno fatto dei sacrifici importanti la società sperando bene l'importanza di voi esperti per favorire l'ambientamento di ragazzi ragazzi l'abbiamo presentati sono sono validi hanno idee chiare però dall'aiuto vostro posso nasce da ingredienti giusti l'ami quella miscela esplosiva per una stagione positiva targata pomigliano sicuramente ragazzi sono un tassello importante per questa categoria noi daremo il nostro supporto per far sì che loro siano a loro agio poi aspettando sempre che loro si adeguano anche a noi le tue caratteristiche classica punto centrale lo ami spaziale su tutto il fronte d'attacco no no punta centrale classica punta centrale le tue aspirazioni per questa stagione e quale potrà essere il contributo al pomigliano in questa stagione spero di fare bene ripagando la fiducia della società e del mister cerco di non prometto niente a difusi però spero di fare un anno buono come quello che è passato l'anno scorso in bocca al lupo e benvenuto a pomigliano crepi grazie 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 Grazie.